Ciao, sono Lorenzo e mi sto prestando a creare un nuovo videoblog. Quello che voglio fare sono delle recensioni di film d'animazione in 180 secondi, senza spoiler. Mi è venuto in mente perché, boh, quando si esce dal cinema mi fermo sempre a dire sì, però quella cosa nel film non l'hanno sviluppata bene, eccetera, eccetera, con grande noia di alcuni miei amici, e invece altri mi dicono oh, arriva la recensione di Joel, che figo! E quindi ho deciso di farlo in maniera un po' più strutturata, scriverli per bene, farli pubblicare un bel video e vedere che tipo di risposta possono avere. Dato che si parla di video recensire un film d'animazione in 180 secondi, senza spoiler, ho deciso di chiamare questo videoblog VruFikes. Ricchi, non ridere! Avevo pensato anche invece che 180 secondi scrivere 3 minuti, solo che poi la sigla veniva VruFai... 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 M... Insomma, non si poteva fare. Mi ricorda tanto il... VruFai... 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 Come strutturerò i video? Le recensioni saranno divise in due parti, principalmente. La parte riguardante la realizzazione e il reparto tecnico, e la parte riguardante storie e personaggi. Questo perché reputo molto importante che la storia sia ben sviluppata all'interno di un film. Non riesco proprio a reggere i film con storie buttate lì a caso, o battute o scene messe all'interno che non ci stanno assolutamente all'interno di un film. E quindi è una cosa a cui darò molto peso nella valutazione del film. Chiuderò poi tutto quanto con una conclusione e dando una votazione. La votazione andrà da... Davvero brutto... Dimenticabile... Sufficiente... Carino... Ben fatto... Davvero figo... Il mio nuovo film preferito! Bene, mi sembra tutto. Direi che possiamo chiudere questa prima parte e iniziare col videoblog.